Quando sono arrivato a Bologna ho riscoperto il piacere della pasta fatta in casa, la pasta che veniva fatta, io sono di Torino, veniva fatta a Torino da mia mamma o da mia nonna. Qui ho riscoperto il sapore dei tortellini, degli tagliatelle, dei cappelletti, tutti la pasta fatta in casa, questa tradizione lungo la via Emilia. Questa tradizione e questi sapori li ritroverete a Cibò, il festival dei sapori dell'Emilia Romagna. Vi aspettiamo!